Un saluto agli amici di Space Viola. Probabilmente siamo di fronte alla vittoria più bella della stagione della Fiorentina Primavera, che dopo la sconfitta in casa contro la Sampdoria doveva trovare delle risposte, anche tramite il campionato, per capire se effettivamente ogni obiettivo è possibile. E direi che l'1-5 a Vinovo, in casa della Juventus, lascia risposte abbastanza chiare. È un momento negativo per la squadra di Montero, che fino a due o tre giornate fa condivideva il primo posto della classifica con la Roma, e che adesso è un po' calata, data sotto anche alla Fiorentina, che con questa vittoria si riprende la zona play-off. Lo fa con pieno merito, perché gioca una grande partita, domina, controlla il match quando ce n'è bisogno e anche quando i bianconeghi hanno accorciato le distanze, la Fiorentina non ha faticato nel mantenere il controllo di tutti i 90 minuti. Anche se a partire meglio, esattamente come nella Supercoppa contro l'Inter, è la Juventus, con Martinelli che si deve impegnare in due interventi, non troppo impegnativi. Al quarto d'ora arriva il primo gol del match, lo fa Tommaso Berti, a mio avviso il migliore in campo per distacco di tutta la squadra, dove però hanno giocato bene, devo dire, tutti quanti. Berti comunque stoppa bene il pallone in area di rigore e spara un gran tiro all'angolino. Sul secondo palo, cinque minuti dopo arriva il raddoppio, da parte di Vigiani c'è un rimpallo su caccia di punizione e lui esplode il destro in porta, con grande potenza. Al minuto 34 arriva il gol più bello dell'incontro e lo segna la Juventus, Asa su punizione meravigliosa. Cinque minuti dopo l'inizio della ripresa, ci pensa ancora Tommaso Berti, molto altruista, toci per l'1-3. E' il classico gol con passaggio filtrante orizzontale ad evitare l'intervento del portiere. E' il numero 14, si leva la soddisfazione della doppietta personale. Il gol poi arriverà anche per Toci, intorno al settantesimo, bell'assist di Di Stefano. E il capitano della Fiorentina in fila all'1-4, spazio anche per lo stesso Di Stefano, per il definitivo 1-5. Bellissima azione personale che si conclude con un sinistro sul primo palo. Fiorentina che adesso può veramente ambire a qualunque cosa. La classifica dice che è a meno 3 dalla vetta, con una partita in più. Ma le ambizioni non devono fermarsi, perché questa Fiorentina può davvero puntare a tutto. Il prossimo impegno di questa squadra sarà mercoledì alle ore 14, il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Mentre domenica al Torrini arriva l'Udinese in zona di processione. Per l'ultima partita, le giro non è d'andata. Mentre domenica al Torrini arriva l'Udinese in zona di